Bocchignano ci interessava molto perché ovviamente è un bel paese molto molto bello ma infatti c'è anche quel festival di jazz che succede ogni anno e infatti noi siamo musicisti mia moglie Jackie suona il sassofono io la chitarra il banjo con questo abbiamo fatto amicizia con tante persone siamo molto contenti e molto impegnati abbiamo fatto tanti amici italiani vive qui è un progetto grande ma è molto emozionante visto questa casa con Riccardo e Lorella Lorella è una donna vive qui è incredibile ma c'era tanto da fare no ci piace tanto questo questa zona e gli italiani sono molto amichevoli ma qui in Bocchignano tutte le persone molto amichevoli loro hanno abbracciato facciamo tanti amici in Salina e Casteria e Poggio Catino e tanti internazionali è fantastico la vita qui è bella è bella dolce vita Palmira un'anziana famosa in questo paese lei ha usato come laboratorio per fare i gesti a questo paese lei ha usato come laboratorio per fare i gesti per questo abbiamo messo un cartello fuori della casa ma tu la vuoi una casa? sì grazie grazie grazie